L'aver annunciato un referendum contro il reddito di cittadinanza per Matteo Renzi ha sortito due effetti, uno politico, costringere Salvini a fare marcia indietro sul reddito di cittadinanza, il secondo sarà scardinare questa legge. Lo dice il leader d'Italia Viva in una intervista alla stampa, nel giorno in cui lancerà il quesito referendario. L'aver annunciato un referendum contro il reddito. E aggiunge, ora, è evidente che c'è una parte di italiani che prende quel reddito e farà una battaglia in suo favore. L'assegno in parte va a povera gente davvero. Ma è una misura che incrocia anche un pezzo di criminalità, manovalanza che ha incassi illegali, a cui somma l'RDC. Renzi ribadisce, la mia è una partita win-win, e si sente sicuro, credo che avremo gran successo nella raccolta firme e che a quel punto sarà interesse soprattutto di 5 Stelle e PD di trovare una soluzione. Alla domanda sulla partita per il Quirinale sottolinea, di cui a febbraio serve una moratoria delle chiacchiere su Mario Draghi e Sergio Mattarella, per nominare la preziosa stabilità di cui gode oggi l'Italia. Grazie a tutti.